Puglia protagonista ad artigiani in fiera 2013 in mostra prodotti e tipicità regionali anche quest'anno la Puglia protagonista della 18esima edizione dell'artigiano in fiera la mostra mercato dedicata all'artigianato di qualità in programma da sabato 30 novembre all'8 dicembre a fiera Milano Ro. Tra gli oltre 2.900 espositori italiani ed esteri sarà presente una nutrita rappresentanza di artigiani pugliesi che riuniti al padiglione 4 metteranno in mostra i prodotti dell'artigianato fianco a fianco con le tipicità enogastronomiche regionali. Tra le specialità pugliesi presenti torneranno i classici prodotti da forno, le conserve tipiche, gli oli e i sottoli. Grande spazio anche alla camiceria con articoli su misura, all'arte della ceramica e della lavorazione della pietra leccese. Di rilevo anche le presenze istituzionali, la Regione Puglia, Assessorato attività produttive e Assessorato risorse agroalimentari, insieme a Unione Camere Puglia, alla Camera di Commercio di Foggia e al Gal di Santa Maria di Lenca. Contestualmente all'apertura della 18esima edizione dell'artigiano in fiera debuterà online il portale macandbuy.com, e-commerce riservato esclusivamente alle aziende artigiane e espositrici della manifestazione che durante tutto l'anno potranno vendere i propri articoli al popolo del web. Il portale in doppia lingua italiano-inglese racconterà le storie di oltre 2000 imprese italiane ed estere, mettendo l'utente in condizione di conoscere e acquistare 365 giorni l'anno articoli unici di tutte le merceologie, arredamento, abbigliamento, accessori e no gastronomia oggettistica. L'artigiano in fiera sarà aperto ad ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 22 e 30, da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!